Per il progetto PVER abbiamo scelto di documentare il lavoro svolto dalla cooperativa Il Frutto Permesso, che si trova nei campi intorno a Bibiana, perché tra le realtà visitate con l'istituto alberghiero Arturo Prever di Pinerolo ci è sembrato quello più interessante dal punto di vista ecologico e sostenibile. Il Frutto Permesso è una cooperativa nata una trentina d'anni fa. Il Frutto Permesso è un modo per sostenere anche l'ambiente. Siamo un'azienda a ciclo chiuso, cosa vuol dire? Che coltiviamo, trasformiamo direttamente noi, abbiamo anche un agriturismo dove la gente può venire a trovarci. Siamo una fattoria didattica, quindi anche i bambini, le scoraresche possono venire in visita da noi. Siamo principalmente un'azienda frutticola, quindi coltiviamo mirtilli, meli, peri, peschi, albicocchi. Distribuiamo a delle mense scolastiche, anche messe all'estero, essendo una produzione biologica è molto richiesto sul mercato questa frutta. Abbiamo scelto di ampliare anche il nostro laboratorio, proprio perché come produzione biologica abbiamo molto scarto, quindi dalla frutta un pochino più piccola, di pezzatura piccola che nel mercato non va, oppure più rovinata. E così riusciamo a trasformare il nostro prodotto di scarto in un prodotto buono assolutamente, quindi per consumarlo dai succhi di frutta, marmellate o antipasti di verdura abbiamo una vasta linea. La cooperativa utilizza il classico metodo dalla terra alla tavola, poiché tutto quello che viene coltivato e allevato viene in seguito trasformato in prodotti finiti. Ma il lavoro della cooperativa non finisce qua, ma opera a 360 gradi su tutta la filiera alimentare. Abbiamo anche una stalla con il fassone piemontese, così prendiamo i vitellini da piccoli, li cresciamo e poi vengono macellati e distribuiamo la carne nel nostro agriturismo oppure nei nostri punti vendita, direttamente qui a Bibiana o due negozi a Torino. Ovviamente però, per fare in modo che il frutto permesso fosse degno di entrare nel progetto Apover, aveva bisogno di un ulteriore standard di sostenibilità, quella energetica. Come cooperativa siamo anche sostenibili a livello ambientale, circa il 70% dell'energia che consumiamo la produciamo noi con i nostri pannelli fotovoltaici. Abbiamo anche i pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua e in questo modo lo utilizziamo anche nell'impianto di trasformazione, perché riscalda l'acqua, riscaldiamo il succo e riusciamo ad ammortizzare il consumo di combustibili. Un altro aspetto molto importante del frutto permesso è la sua valenza educativa e didattica. Durante l'anno sono moltissime le scuole del territorio di ogni ordine e grado che partecipano ai laboratori alimentari e alla fattoria didattica organizzata dalla cooperativa. L'alta concentrazione delle scuole areste è nel periodo da marzo a giugno. Siamo aperti anche a luglio, come soggiorni estivi i bambini possono venire qui e soggiornare anche settimanalmente, proprio per essere avvicinati alla natura, al contatto con l'ambiente, con gli animali e anche alle trasformazioni, perché fanno proprio dei lavoretti loro, dei succhi di frutta. Oggi abbiamo visto che la scolaresca produrrà una pagnotta e porteranno a casa la loro pagnotta di pane. Ambiente, ecologie e sostenibilità che, aspetto molto importante, generano occupazione. In questa cooperativa lavorano circa una trentina di persone. Ci sono persone che lavorano durante tutto l'anno e altri in periodi stagionali, quindi nei momenti della potatura oppure della raccolta le persone aumentano, anche perché abbiamo bisogno di più mano d'opera. Dopo l'intervista Erika ci ha accompagnato nell'interessantissima visita completa del ciclo produttivo della cooperativa. Abbiamo visitato i campi, le stalle e i laboratori dove viene trasformata la frutta in succhi e prodotti finiti.